La mezzanotte era passata da poco e la redazione era ancora lavoro, al secondo piano dell'antico palazzo a pochi metri da piazza Santoronzo. Chi ha giottato la vernice rosa sui muri e nell'atrio interno e lasciato una scritta con spray nero ha rischiato di essere notato. Un attentato esplicito alla redazione del nuovo quotidiano di Puglia ed un messaggio, l'infamia è la vostra qualità, insieme ad una parola ingiuriosa che qualcuno ha provato a cancellare dal muro. Al mattino, dopo la naturale sorpresa, il lavoro è ripreso come sempre nella stanza del direttore Claudio Schamardella, riunione di redazione con i giornalisti in tutta serenità. Non ci lasciamo certo intimidire, dice il direttore, è un gesto isolato, non un attacco alla libertà di stampa, probabilmente abbiamo dato fastidio a qualcuno. Andremo avanti, non ci facciamo assolutamente condizionare, non ci condizionano poteri forti anche per le nostre campagne di stampa che facciamo, non ci potrà condizionare una scritta che sarà, poi saranno gli organi inquirenti ad accertare chi è stato, chi non è stato, ci sono le telecamere, ma insomma la redazione è venuta stamattina a lavorare molto tranquilla, serena, andiamo avanti, è un piccolo incidente di percorso. Questo non è un attacco alla libertà di stampa, è un segnale, abbiamo dato fastidio a qualcuno e quindi si è voluto vendicare con una scritta del genere. Gli attacchi alla libertà di stampa sono altri, non c'è nulla di eroico nel nostro lavoro, informiamo, facciamo un lavoro onesto, diciamo, di informazione che i più apprezzano, visto il successo del giornale e soprattutto del sito web, del sito online, qualcuno detesta e quindi è giusto che sia così, ma l'importante è che noi continuiamo a tenere la schiena dritta, senza farci condizionare. Intanto la solidarietà arriva da più parti, tra i primi messaggi arrivati quelli del presidente della provincia, Gabellone, nella sua vice, Simona Manca, quelli dell'editore di Telerama, Paolo Pagliaro, ma la condanna all'attacco è unanime. Commenterete il fatto domani sul vostro giornale? Beh sì, daremo molto spazio ai messaggi di solidarietà, ma senza enfatizzare. Ripeto, non ci facciamo né condizionare e soprattutto intimidire un verbo in questo caso davvero fuori luogo.